Impegnative, 72 ore impegnative sicuramente sì, poi è chiaro che c'è molta soddisfazione perché era una partita tutt'altro che semplice, sia a livello tattico sia a livello mentale ma l'abbiamo interpretato bene, pur che accendendo qualcosa di troppo nel primo tempo però è solo il primo passaggio perché non dobbiamo assolutamente fermarci mentalmente e sapere che vogliamo provare a essere competitivi anche in Europa non significa essere solamente contenti per arrivare agli ottavi ma significa provare a passare anche agli ottavi, quindi dobbiamo puntare a quello Assolutamente sì, nel fatto di essere affamati nel modo più assoluto e questo è un gruppo che ha sempre dimostrato grandissima motivazione, grandissima fame di fare tutto il possibile e credo che alcune volte anche di più e poi è giusto che siamo campioni d'Italia, non è che siamo arrivati in Champions per così siamo forti, ho allenato dei giocatori molto forti che stanno diventando giocatori di livello mondiale e molti loro giocheranno in mondiale quindi vuol dire che chi ci troverà troverà una squadra forte e poi dopo forti saranno anche i nostri avversari assolutamente, affronteremo sicuramente una squadra che è arrivata prima nel proprio giugno chi vince i giorni in Champions significa che hanno le capacità anche per poter vincere la Champions però ci arriveremo, però adesso è troppo importante finire bene questo troncone di campionato abbiamo tre partite importantissime, vogliamo stare alti in classifica e riprende poi il 4 gennaio con tutti ancora i nostri obiettivi a disposizione campionato, Champions, Coppa Italia, Supercoppa questo è il nostro obiettivo e quindi c'è da spingere adesso e da recuperare ma da spingere in queste partite Grazie 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 Grazie